Innanzitutto saluto come commento Lion09 Giacomino Nutritivo, mi raccomando raga commentate tutti! Bella a tutti ragazzi bentornati in un nuovissimo video, ma innanzitutto andiamo nel negozio oggetti a mettere immediatamente Gio 12 Pro raga Vi do 5 secondi, vabbè già l'ho messo, vi do 5 secondi, 1, 2, 3, 4, 5, mi raccomando raga fatecetta Poi andate subito nel negozio oggetti se avete V-Bucks per comprare Dapta, Fearwall, Creeper, Io, Proxy Mi raccomando raga, se volete shoppate tutto con Gio 12 Pro! Benissimo raga, oggi ho aperto l'arena e mi sono reso conto che sono veramente un nabbo signori Non abbiamo neanche 500 punti e ancora siamo in divisione 2 Cioè mi sto sentendo male, quindi praticamente che cosa ho detto? Dato che domani sabato sera andremo in live su Fortnite, ho detto vabbè cosa facciamo? Brutta figura davanti a tutti, no, non può essere! Quindi signori oggi dovremmo fare un bel po' di punti Signori vediamo chissà quanti punti, sono praticamente diventato un ninja, un tfew e un bug Signori, adesso vi farò vedere le mie bellissime kill, signori, arriveremo subito in semifinale Contro niga buga, niga buga tfew e tutto il resto Niga buga, niga buga, vabbè lascia stare dai Sì, che cos'è? Dettaglia arena, punteggio, hypes, va bene, indietro, partiamo raga Mi raccomando raga il like è quello ma già sono cose scontate Benissimo raga, allora dove potremmo scendere? Dato che l'autobus comunque passa da questa zona Io scenderei ovviamente a bruchiere brumosa, lo so, forse atterreranno tutti raga Però è la cosa migliore da fare, dato che dobbiamo fare un bel po' di kill Non mi laggare anche oggi raga Vero che il ping ce l'ho 71, vabbè, è accettabile raga dai 10 secondi, nel frattempo raga che inizia Auguriamoci il meglio perché veramente raga Dobbiamo fare tanti di quelle kill Perché non è che posso essere in live Io definirmi pro player che non sono E avere zero hypes praticamente 427, vediamo raga quanto riusciamo a salire Bene, adesso che ci siete possiamo iniziare Adesso raga possiamo ringraziare Forse ringrazio immediatamente E signori scendiamo subito a bruchiere Dai per favore computer inizia a reggere Dai raga la grafica dovrebbe essere ottima Cioè teoricamente si dovrebbe vedere bene la scia Allora signori, intanto il computer sta renderizzando bruchiere Vediamo un attimo i player Uno, due, eh per forza raga Sta subito, qua l'autobus scendeva Quindi dobbiamo prendere subito una bella arma Cos'è questo? Un cecchino Eh ma del cecchino noi ce ne facciamo poco Dai cecchino bro cecchino Ci siamo signori, un cecchino Poi abbiamo anche una bella R Aspetta che la prendo immediatamente, vai Dai dai, almeno una kill raga che devo farlo Dai, 10 hype, 20 qualcosa ce li dobbiamo portare A casa non è che posso andare ogni volta a mani vuote Cos'è questa? La nuova pesca? Ok, nuova pesca anche se nuova non la vedo Prendiamo subito un bel drinks signori 25 e con questo andiamo a 50 Vediamo di killare tutti, vai Col cecchino dai, zitto zitto Dai, ci dovrebbe essere per forza qualcuno Non è che i player non si fanno mai vedere Cioè solo quando c'è ninja si fanno vedere? Non voglio rischiarmelo Ok Sono morto Vai così, vai così Non ho materiali No signori, che schifo Rifacciamo subito Beh raga, il pullman passa da questa parte Quindi signori potremmo scendere benissimamente A corso commercio Poi vabbè, lo so che sarà pieno di players Però raga, ce ne facciamo una ragione Guarda qua quanti players Sono tutti forti, uno più forte dell'altro Pieno di skin, pieno di tutto raga Zero hype, ok Siamo a 427 punti raga Vediamo di non fare brutta figura Perché lo so che poi live Sono un abbetto del caolo E vai così Con le braccia aperte signori Il nostro gattino Scende con il cane Vabbè È un abbinamento un po' brutto Lo so, qualcuno già me l'aveva detto Infatti ci stavo pensando Però signori Teniamoci il gattino sostanzioso Da quando viene infastidito Da delle graffiate Proprio rende tutti nutritivi Come un papapapapapapapapani Guarda qua quanti player Uno, due, tre, quattro, cinque Cinque signori Siamo pieni Bugha ninja tifu Stiamo diventando Super signori Allora Prendiamo subito un'arma che ci serve Vai qualche cosa Raga un'arma Raga un'arma Sono morto No raga sono morto Sono morto Sono morto No questa volta no raga Questa volta signori Ce la facciamo Vai così Abbiamo Una pistoletta Ma quanto sono smirato Signori vai una kill Vai una kill Vai una kill Dobbiamo sopravvivere Dobbiamo sopravvivere Pio tutto Ok signori Dai che si sopravvive No no per favore Per favore Per favore Non posso Non posso Fra non posso Non posso bro Non posso Non posso morire Dai per favore Per favore Per favore Per favore, per favore, per favore, per favore Ho 5-9 di vita Signori, 9 di vita, dai che ti devo resistere Ok, adesso possiamo switcharci E nel frattempo, signori, ci facciamo le cure Vai, caricati, carichi Noi nel frattempo possiamo dormire Cosa sta laggando? 81 di ping, raga, è troppo Cioè, adesso mi lagga pure Ma che computer è? È un computer sostanzio Eh, vedo player là in fondo C'è tipo un cosino sostanzioso Aspetta, dai, spostati Vai nel gavano guida Ok, signori Vedevo un po' di movimento in lontananza Verso quella zona Vediamo un'occhiatina così Ma tanto per Caravanzia Vediamo un attimo se c'è qua Che mannaggia al player Che dobbiamo killare tutti, vai Eccolo, 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 signori Manca un colpo Tutto missato, signori Guarda qua che nabbo che sono Tutto miss Guarda lì, guarda lì 28, 28 Signori, vabbè, era easy questo Dai, ci stava Cioè, era un nabbo se non lo killavo Allora, signori Può essere che ce la facciamo, eh Dico può essere perché Non sono mai sicuro Tutto missato, signori Ma cos'è, siamo diventati nabbi Siamo diventati Lo siamo sempre stati, in realtà No, non posso giocarmela così male Oh Raga, veramente son peggiorato Ma no di poco Di tanto 33, signori Eh, raga, è difficile qua Eh, non lo prenderò mai così Per favore Per favore Per favore Non mi fare male Non me lo merito No, non me lo merito No, per favore Per favore Per favore Signori Benissimo, raga Allora, vediamo subito dove possiamo scendere Beh, praticamente io potrei scendere A lago languido Facciamo, dai Un posto in mezzo Bosticino sostanzioso Al lago Così che possiamo mangiare tantissimo pesce Un microfono si è arrunchiato E il microfono si era spostato Allora, vediamo subito un attimo Allora, quindi raga Scendiamo al lago Prendiamo un bello pesciolino sostanzio Che possiamo killare tutti Praticamente Guarda questo C'ha delle ali nutritive Guarda questo Travis Scott Signori Ma guarda che personaggi che abbiamo Signori Ci buttiamo immediatamente Mancano meno di 700 metri Dai, raga Dobbiamo vincere Questa volta Portiamoci a casa Un bel pacco di hype Ovvero, raga Un bel pacco di punti Almeno Almeno Divisione 3, raga Dai, dobbiamo cercare di andare avanti Allora, vediamo subito Quanti player Quanti, eh Eccoli Uno, due In fondo In fondo Poi ce n'è un altro qua vicino Raga, vabbè Insomma, raga Un po' di gente c'è purtroppo Vediamo almeno di killare qualcuno Subito un'arma, signori Poi se c'è qualcuno, raga Nei commenti in chat Così in questo momento Che mi sta guardando Se c'è qualcuno Che mi può allenare, raga Adesso che per me è carnevale Se c'è qualcuno Che ho tempo più libero, raga Che mi può aiutare Mi faccio un piccolo allenamento Allora, vediamo subito Cosa c'è dentro la casa Oh, bello Questo mi prende Un bel pompa nuovo Questo fa proprio in testa Pum pum E muore subito Il papapanino Signori, vediamo subito Devo entrare in divisione 3, raga Se no contro Ninja Bugatti Fiu non ci arriviamo Chi è qua, signori? Sento motocarri Che danno sprint Guarda qua che motocarro Che dà gas Aspetta, adesso Guardalo qui Guarda qui Come scappa il panino Guardalo Eh no, Fra Eh no, Fra No, Fra Guarda che panino Guarda che panino Col cecchino Ma, Fra, non muoiono No, No, Non ci posso Adesso vedi che questo mi uccide No, Per favore Per favore Dai E mia la kill Su Su, Via Ulla Questo è un pro player Signori, Pro Player Signori, Kill Signori, Kill Signori, Kill Via, 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 Via Si scappa Si scappa come di pa 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 Panini � Signori, Guarda che bello Guarda qui, Kill No, Signori Signori, Signori Che brutto Che brutto Che brutto Si, Guarda che bello Signori, Tre Kille Dai, Signori Dai, La nostra bella figura L'abbiamo fatta Dai Almeno qualche cosa L'abbiamo portata a casa Allora, se non sbaglio, mi hanno dato anche vita Killando, dai 527 punti, dai, almeno, raga, stiamo passando Lentissimi come delle lumache Perché praticamente, raga, io gioco Faccio una partita al giorno, una ogni due giorni Raga, però devo dire che stiamo salendo Bello, bello, dai Questo è veramente un miracolo, signori, non sono morto Allora, ho visto subito un cecchino che mi devo prendere Quindi prendiamocelo subito, switchiamo Leva, poi se ci sono delle cure, raga Anche meglio, perché dobbiamo prenderle Vai, oretto Vai così, raga, un bello orafo Un bello oro, un bello sostanzioso Vediamo se c'è anche qualcos'altro, vai E ci servono un po' di cure in realtà, raga Quindi se c'è qualcuno che me le può mandare Mentre state guardando questo video, ok Vediamo subito se c'è qualche player, almeno adesso abbiamo il cecchino Uh, bello Bello come pazzerello il panino Nooo, che schifo Signori, ma proprio Mi è arrivato un colpo qua Nella testa sostanziosa DR cyborg, ma quale cyborg? Raga, vediamo se siamo in divisione 3 Se no, raga, veramente sbocco Signori, cosa abbiamo da riscattare? Assassino sconosciuto Ottimo, raga, ovviamente noi accettiamo tutto Vediamo subito se siamo in divisione 3 Signori, siamo lega aperta Divisione 3, quindi non so se perderemo Hypes Comunque la nostra missione è stata riuscita, raga Quindi subito un like Commentini, condivisioni, raga Tutto il mondo Vediamo se questo video finisce comunque nell'algoritmo Beh, signori, che dire Alla fine il nostro risultato l'abbiamo ottenuto Siamo arrivati in divisione 3 Quindi possiamo essere contenti Abbiamo superato i 500 punti Certo, con un po' di difficoltà, raga Però, come già ho detto prima Se c'è qualche allenatore che mi vuole aiutare, raga Questo lunedì martedì ci possiamo mettere d'accordo Quindi, signori, spero che il video vi sia piaciuto Comunque ce l'abbiamo fatto, raga Quindi un bello applausino sostanzioso Un bello papapapapanino, signori Quel giova sostanzioso che vi saluta, raga Bella! Ciao Ciao